Salve a tutti, oggi presentiamo il Fibmiro TecnoSky. Il Fibmiro è un accessorio molto utile in fotografia. Quando lo specchio si trova a 45 gradi rispetto al fascio ottico di entrata, l'immagine viene riflessa a 90 gradi su questo porto oculare, dove di solito si inserisce o un oculare con reticolo o una piccola camera. Quando invece noi alziamo lo specchio, l'immagine, la luce, attraversa l'intero Fibmiro e va direttamente alla camera di ripresa. In questo modo, ad esempio, noi possiamo centrare con l'oculare, con il reticolo un oggetto, quando è centrato lo alziamo e così lo troviamo perfettamente al centro della camera di ripresa. Può essere utile sia in fotografia Deep Sky che in fotografia planetaria. Sul Fibmiro sono presenti alcune regolazioni. La prima regolazione che troviamo sopra il corpo del Fibmiro serve soltanto per aumentare o diminuire la durezza del movimento dello specchio. Un'altra regolazione invece più importante presente sotto è la battuta dello specchio. Avvitando o svitando questo grano noi possiamo abbassare o alzare la battuta dello specchio. Sopra, sul porto oculari, è presente una manopola di bloccaggio dell'oculare della camera e una seconda manopola che permette il blocco e lo sblocco del focaggiatore elicoidale per una messa a fuoco di precisione. Davanti è presente un naso da 31,8. Svitandolo troviamo una flettatura T2 femmina quindi possiamo innestare anche altri accessori. Dietro invece è presente la classica flettatura Mastio T2 nel suo tappo per chiuderla. Grazie.